LULU A.S.M.A Il 90% fatto con l'impasto della colomba e niente lo sfogliamo insieme se ti va. Cominciamo subito. Qui abbiamo prosciutto cotto alta qualità gambini cotto invece di 5,29€ con 40% di sconto lo troviamo a 3,17€. Qui abbiamo la mortadella Romagnati con il 30% di sconto 2,09€. Qui c'è la presaola della Valdellina 3,99€. Poi questa è la parte tutta di affettati. Qui c'abbiamo il peccato adige 2,51€. 90 grammi infatti stavo guardando un po' il peso, 90 grammi. Poi abbiamo il formaggio grattugiato fresco parmareggio con 40% di sconto 1,49€. Il Philadelphia da 2, 1,19€. Qui abbiamo lo sconto del 30% sul burro formato montadino. 3,98€. Certosa 84 centesimi. Poi qui abbiamo ricotta granarolo e quella piccolina però da vediamo se trovo il peso 450 grammi. No non è neanche piccolina quasi mezzo chilo 1,29€. Ottimo prezzo. Il mascarpone 2,59€ della Optimus. Poi qui abbiamo l'insalata di mare 2,99€. Io preferisco prenderle fresche queste cose. Già scontato il pesce del 50% non mi fido moltissimo. Vuol dire che la scadenza è abbastanza imminente. Di solito il pesce e la carne non li prendo mai scontati. Poi qui abbiamo il salmone. 9,99€. C'è il 30% di sconto. Qui abbiamo sempre il salmone norvegese però questo è il formato a fette. Questo invece era bastoncini tipo. Questo 3,29€. Poi qui abbiamo la panna chef 1,35€. Io con questa mi trovo molto bene perché ha un formato per una porzione singola. E' molto comoda perché ne apro solo una e la consumo tutta. Quindi non me ne rimane da tenere aperta in frigo. Poi qui abbiamo il latte della Parmalat. 99 centesimi al litro. Il latte HD 99 centesimi. Lo yogurt al 40% di sconto. Anche qui penso che la scadenza sia abbastanza imminente. 1,49€. La confezione da 2. La pasta sfoglia 2 toni. 83 centesimi. Qui abbiamo sconti fino al 50%. Vediamo un po'. Fongole surgelate. 1,99€. Il trancio di pesce spada. A 12,56€. Penso sia al chilo sì. E qui abbiamo anche il 30% di sconto. Poi abbiamo il gambero argentino. 8,99€. Poi qui cosa c'è? Filetti di salmone selvaggio. Windus. 7,99€. Con 40 di sconto. Poi patatine, patasnella, pizzoli. 1,19€. Sono quelle da surgelate, da cucinare nel forno. Poi bisellini primavera che io compro molto spesso. Perché mi trovo veramente benissimo. Sono ottimi questi bisellini. Qui c'è il 40% di sconto. Li paghiamo 2,15€. La confezione da 850 grammi. Eccola qua. Poi, vediamo un po'. Gelato, affogato al caffè, algida. 2,69€. Scontatissimo anche questo. Qui abbiamo gli spinaci millefoglie Bonduelle. Penso siano surgelati anche questi. 1,49€. I surgelati li trovo comodi. Perché magari quando ho fretta e non ho tutto sto gran tempo per cucinare. Li metto in padella e in 10 minuti sono pronti. Giusto così. Quando non ho appunto il tempo necessario per cucinarli io. Perché sennò preferisco ovviamente le verdure fresche. Poi abbiamo qua carciofi mezzi. Oro gel. Eccoli qua. 1,99€. La pizza da forno. Poi toni. 1,99€. Il gelato l'abbiamo già visto. Andiamo di qua. Allora, allora, allora abbiamo... Riso carne a roli. 1,49€. Pasta all'uovo mosconi. 1,99€. Questa è una marca che non conosco sinceramente. Non saprei dirvi se è buona oppure no. Qui abbiamo la molisana trighetto. Pasta di semola molisana. 50% e 57 centesimi alla confezione. Salsa pronta di ciligino a cromonte. Questa la uso spessissimo. Ed è ottima. Veramente buonissima come salsa. 99 centesimi in offerta. E poi abbiamo la pasta integrale biologica. 99 centesimi. L'olio Bertolli. Che anche questo uso molto spesso. Anzi, lo alterno con un altro olio. Vabbè. E quando non trovo il Bertolli prendo il Farchioni. Però io mi trovo molto bene con questo. Ed è scontato al 50% 3,49€. Ottimo. Qui abbiamo la salsa petti. 84 centesimi. Anche qui lo sconto del 50. Stessa cosa per l'olio extravergine buon amici. 4,99€. Poi qui c'è olio di semi e zucchi. 3,49€. Il Dado Star. Anche questo uso. 1,29€. Andiamo avanti. Poi qui abbiamo il Tonno Riumare. Confezione da 6 lattine. Invece che 13,99€. 6,99€. Anche questo è un ottimo sconto. Poi qui c'è filetti di tonno. 3,99€. Ascoltatissimi. Qui abbiamo funghetti interi. 1,99€. Peperoncini farciti con tonno. 3,98€. Alice in salsa piccante. 2,93€. I Fonzis. I Fonzis. 1,98€ al pacco. Ah no. Questo è il multi-pack che ce ne sono. Mi sembra 6-7 confezioni. Se non sbaglio. 1,98€. Un po' le patatine. 97 centesimi. Lingue croccanti. Albero del pane. Sono tipo di grissini un po' più robusti. Insomma. 1,25€. 4,99€. Abbiamo i pinoli sgusciati. Gemme di bontà. Questi. Salsa calve 1,29€. Maionese calve 1,89€. Poi. Vediamo un po' cosa abbiamo. Qua abbiamo diversa pasta. Comunque tutta scontata al 50 o al 40%. Qui abbiamo la passata al pomodoro sicagno siciliano. Che questa deve essere buona. 1,04€. Qui c'è ancora pasta. Andrivi avanti. Dunque. Pizza. 2,44€. Olio extravergine di Sicilia. 10,90€ al litro. Insomma. Questo non è convenientissimo. Un litro. 10,90€. Mi sembra anche abbastanza caruccio. Però. Deve essere buono. Perché i gp. Poi. Abbiamo il burro. 1,99€. Tè verde alla menta. Ottenero. Earl Grey. Qui. 5,29€. Due confezioni. Penso. Strudel di mele. 3,59€. Qui c'è. Tavoletta di cioccolato. 1,39€. Cioccolato. Accessor. 90% cacao. Deve essere buono. Deve essere buono anche questo. Poi. Vediamo un po'. Qui abbiamo il lavazzauro. Il caffè. 5,95€. Mi sembra che siano due confezioni. Pancoccio. Limonino bianco. 1,18€. Scontati al 30%. Biscotti a 99 centesimi. Biscotti misura. 2,59€. Cirella. 1,39€. Scontata anche del 30%. Ottimo. Confettura extra. Buon man man. 1,79€. Capsule dolci gustone. Scaffè. 3,99€. Bevanda a base di frutto optimum. Yoga. 50% di sconto. 1,29€. Ok amici. Qui finisce la prima parte del Teplian dell'S Lunga. Vi saluto. Continuate a seguirmi perché vi faccio anche la seconda. Ciao. A presto.